...da me in diretta su Radio CRC Targato Italia alle 23, in replica venerdì alle 22, questa sera i nostri ospiti 99 posse, freschi di album Curru Curru Ayo 2.0, 21 anni dopo, che in tutte le classifiche nazionali, anche nella nostra di rappello, e soprattutto un album ricco di collaborazioni importantissime, da Roy Paci a Enzo Avitabile, non vi voglio anticipare nulla, ma soprattutto il pezzo con Clementino, Ripetu Clemente, che è veramente una bomba, a sottolineare che Clemente fa delle collaborazioni di qualità e poi delle collaborazioni commerciali. Ripetu Clemente è un titolo che a me piace da morire, mi fa impazzire, benissimo, e poi si chiuderà la puntata con un DJ set, come sempre, e questa sera avremo il tuo grande DJ set, vero? Ci provo, ci provo. E ci provi, ci riesci benissimo, e ricordiamo anche un po' di appuntamenti tuoi, Robby, già che ci siamo. Allora, per quanto riguarda i miei appuntamenti, stasera comincio l'ex terra, ormai mercoledì di Chiaia, e poi domani vi aspetto invece al Bross, bar di punta di Vicoletto Belle Donne, sempre a Chiaia, di Tommy e Giulio, e poi volevo segnalare la partenza di domenica con un nuovo esperimento, domenica 4 maggio, aperitivo panoramico al Residence Il Castagno. Partiamo da mezzogiorno in poi con Maria Pia Gatto, che è la direttrice, ha voluto fare questa cosa, partiamo domenica 4 maggio, ricordiamolo di nuovo. Sarà un appuntamento più estivo, forse? Piscina, insomma, anche con la musica. Una figata, possiamo dirlo. Una figata, l'aspetto, l'aspettiamo. Va bene, noi ci saremo sicuramente, ricordatevi anche voi che ci state ascoltando di esserci questa sera, di seguire Rappello, non soltanto in diretta e replica su Radio CRC e su Radio Napoli 24, ma anche in podcast scaricabile dal nostro sito internet www.radiocrc.com e di seguirci anche ovviamente su Facebook alla pagina di Rappello. Robby, io ti ringrazio. Grazie a te Lucia, è stato bello essere qui di mattina. Bellissimo, ma adesso ho gli occhiali per questo, fra un po' resuscito e ne riparliamo. Vabbè, andiamo a fare un'endovena di caffè, grazie a Roberto Funaro con te stasera, grazie a Alex Belluccio Regia, grazie a Corrado Gabriele Barbi e Capelli, torna domani mattina dalle 7 alle 10, adesso la canzone che mi passa per la testa dalle 10 alle 12. Ciao!